Musica Bene, siamo alla sfida da bar Piramidi di Cannuce Proprio un gioco fatto con quello che si trova normalmente al bar Delle cannucce Abbiamo tre diverse cannucce In questo caso una cannuccia nera che è stata accorciata Una cannuccia rossa che è stata inserita all'interno di una cannuccia gialla Piegata in questo modo all'interno della cannuccia rossa E qui la cannuccia nera Mettiamo così una sull'altra in maniera tale da formare una piramide La sfida da bar, la sfida da fare con i tuoi amici è questa Riuscire a sollevare le tre cannucce da terra Utilizzando una quarta cannuccia Ora la quarta cannuccia la puoi sì piegare se vuoi Ma non puoi usare questa piega come se fosse una pinza E non puoi usare neanche la cannuccia in generale Come se fosse una pinza per sollevare gli oggetti Puoi utilizzare così la cannuccia dritta E volendo la puoi piegare in questo modo E utilizzando solamente la quarta cannuccia Sollevare le tre cannucce da terra Bene, siamo con la soluzione di questa sfida da bar La soluzione è questa Si mette la quarta cannuccia in questa posizione Si solleva La terza cannuccia cade giù E a questo punto possiamo sollevare il tutto da terra in questo modo Questa è la soluzione della sfida da bar Delle piramidi di cannuccia E a questo punto possiamo sollevare il tutto da terra in questo modo